Io lo ricordo personalmente, credo che tutti dobbiamo ricordarlo, come un grande uomo, un grande teologo e un grande pastore. Grande uomo perché aveva una capacità di parlare alla gente, di mettersi a disposizione dell'interlocutore a suo pari, con grande umiltà intellettuale e personale, quindi una persona squisita, come solo i grandi sanno essere. Grande teologo, è inutile spendere molte parole, è uno che appartiene alla storia della grande teologia cristiana e cattolica, in particolare del Novecento, e grande pastore perché quel suo breve pontificato ha rappresentato un punto di riferimento in tutto il mondo. Ha svegliato tante coscienze, ha sfidato tante persone e tutti lo hanno considerato come veramente l'uomo con cui parlare e a cui rivolgersi per risolvere tanti problemi gravi internazionali. Siccome qui siamo in Senato, io vorrei ricordarlo, e tanti ce lo ricordiamo, quando ci fece visita, un giorno che fu per tutti noi di grande festa, la conversazione che ebbe, ciò che gli disse. Due punti, ricordo in particolare, che sono parte della sua eredità. La crisi dell'Europa, che Benedetto XVI faceva risalire ad una crisi spirituale, prima ancora che una crisi politica o istituzionale o economica, insomma quella di cui ancora siamo circondati, con l'aggravante oggi che siamo anche in una situazione di guerra. la crisi spirituale dell'Europa, cioè la circostanza che l'Europa quasi si vergognava della sua storia, delle sue radici, di quel cristianesimo che l'aveva tenuta a battesimo. E l'altro punto importante di quel giorno, che poi fu anche un sigillo del suo pontificato, la sfida ai laici. Era diventato un interlocutore dei laici, di quelli che non sono credenti, che magari diffidavano della Chiesa o che hanno sempre sollevato obiezioni nei confronti della politica della gerarchia ecclesiastica. Lui sfidò i laici con quella sua espressione latina utideus retur, cioè li sfidò su questo terreno. Se voi volete un'azione morale, un'esperienza morale veramente fondata, se voi credete in certi principi e in certi valori, come quelli dell'uguaglianza, della parità, della dignità di ogni persona, allora voi dovete dare una giustificazione e vedrete, questa era la sfida, che la vera giustificazione di questi principi di cui oggi siamo tutti quanti orgogliosi e talvolta anche orgogliosi in maniera un po' retorica, la vera radice di questi principi e di questi valori è nel messaggio cristiano. Molti laici rimasero colpiti, molti in Italia e fuori d'Italia accettarono la sfida e parlarono con lui e quello che era bello era che lui non invitava a convertirsi, non faceva omelie, entrava in comunicazione con loro sul loro terreno preferito, cioè la laicità. Come giustificate questi principi e valori di cui voi siete orgogliosi se mettete da parte il cristianesimo? Ecco, lì c'era al tempo stesso il grande teologo, la persona umile perché si rivolgeva da pari a pari a coloro che non credevano e poi il grande pastore e per questo credo che sia fino da subito una grande figura della storia. Nel 2004 il grande evento qui in Senato nella Sala Capitolare, un libro importante scritto a quattro mani dal Papa Emerito e del Presidente Marcello Pera, ma il ricordo umano che ha Presidente lei di Benedetto XVI. Sì, amo poco parlare di questi aspetti così personali e li tengo chiusi dentro la mia memoria, però ricordo i momenti della fattura del libro, delle discussioni che lo accompagnavano, dei temi in cui stavamo trattando e anche quelli gioiosi perché in quel momento era veramente gioioso quando il libro uscì e cominciamo a presentarlo in varie parti, soprattutto mi ricordo una bella giornata alla Università Lateranense qui a Roma. C'era il Papa umile che era anche però felice di aver contribuito a parlare con coloro che egli considerava interlocutori naturali e quella giornata in Senato fu veramente una giornata memorabile, quella fu una parte della storia culturale del Senato.